ragazzi ho sopra un'intervistina al volo ma sul red carpet di questa favolosa serie netflix la vostra canzone e noi abbiamo avuto l'onore di tradurre fiumi di parole anche in spagnolo e quindi è stato un bellissimo omaggio da parte di chi ci ha invitato sentire dalla nostra entrata rioste palabras ma vi piace la serie siete fan della casa di carta assolutamente si è guardata esclusivamente in spagnolo dove non ci capisco niente ma sono lì catturata dalle immagini ma perché guardi sotto titoli per forza posso fare una battuta ma stasera non avevate un treno un volo prenotato per andare al nord perché c'era una presenza benissimo al sud ma benissimo così a poi roma è magica stasera quindi non vediamo l'ora di vedere berlino avete assorbito la botta di questa esclusione da sanremo ma ormai noi abbiamo sempre detto sono 27 sono ancora pochi c'è 28 29 30 31 siamo tosti eh quindi ci riprovate assolutamente sì grazie